Sabato 27 e domenica 28 settembre presso il circuito di Pomposa in provincia di Ferrara è andata in scena la 500 miglia, la terza ed ultima prova del campionato Pomposa Endurance Series, di cui hanno fatto parte la 24 ore Corsa Maggio e la 250 miglia disputata ad agosto. I mezzi utilizzati per l'evento dalla durata di quasi 15 ore sono stati Sodicart modello RX7, messi a disposizione dall'assistenza tecnica della Far Race. La gara, incominciata alle ore 20.30 del sabato e conclusa alle ore 11 della domenica mattina, ha visto la presenza di 17 team provenienti dalle varie regioni d'Italia. Lo spettacolo ed il divertimento sono stati gli ingredienti vincenti che la pomposa Endurance Series ha messo in pista. Al termine delle prove di qualificazione, ad aggiudicarsi la pole position assoluta, è il team ST Racing con un tempo di 1 minuto 15 secondi e 207 millesimi, seguito dagli orsetti volanti e dal CK Racing. A seguire troviamo SKT, Pomposa All Star, Red Racing, Pomposa Dream Team, Emilia Racing Recotec, VRGM, MGM Kart Racing, T-Kart, Kartisti per caso, Persi Corse, Ventura Airtrack, Kartrack, Stemaro Racing e VKI Vicenza Kart Indoor. Quest'ultimo retrocesso per sottopeso. Diciamo che è stata una qualifica molto tirata, siamo 12-13 team racchiusi in 3-4 decimi di secondo e a maggior ragione è stata una bella soddisfazione. In gara ci vorrà un gran passo perché le squadre sono veramente competitive ed esperte in questo settore, nelle Endurance. Come vedete manca mezz'ora all'inizio di questa 500 miglia di Pomposa, siamo sul rettilineo di partenza che per 15 ore verrà a sfilare tutti i 17 equipaggi. Marco Bondi, titolare del circuito romagnolo, a farci un po' il bilancio di questa ennesima gara fortunata che hai organizzato. Sì, settima edizione della 500 miglia, 17 team presenti in pista, una bella serata serena, contrariamente all'anno scorso che abbiamo corso sotto la nebbia, quindi condizioni molto variabili ma che comunque divertono questi piloti che onestamente si stanno veramente divertendo. Abbiamo fatto poco tempo fa le prove cronometrate e la solita presentazione delle squadre e la foto di gruppo che poi sicuramente vedremo anche in questo servizio e che dire, la formula è divertente, i kart vanno molto bene, abbiamo ben 14 team nel primo secondo, quindi veramente vicinissimi. Sono convinto che ne vedremo veramente delle belle. Ricordo che il prossimo anno noi festeggeremo i 10 anni di attività, ci sarà una bella 500 miglia a fine maggio per dare modo in questa pausa fra le prove cronometrate e la gara di fare un po' di festa. Quindi dicevo in questi 10 anni abbiamo radunato un bel numero di team molto competitivi, molto vicini tra di loro, comunque sanno divertirsi e come ho detto ne vedremo sicuramente delle belle. Ecco, tra un po' ci sarà la 24 ore delle Gran Canaria e poi la Pomposa Endurance è già pronta, proiettata per il 2015, ma per avere tutte le informazioni pomposaendurance.it. Sì, noi nell'inverno non ci fermiamo, anzi il 29 e il 30 novembre saremo a Gran Canaria e poi di nuovo a gennaio sull'isola di Lanzarote per poi preparare la stagione 2005 dove abbiamo già il primo anno 2015, 10 anni di attività, avremo già calendario a fine maggio a 500 miglia e una 24 ore più o meno in questo periodo, quindi diciamo fine settembre, inizio ottobre. Fin dalla partenza della gara effettuata in stile Le Mans, i team ai vertici della classifica si danno battaglia, scambiandosi così continuamente la posizione a suon di sorpassi. Dopo i primi 20 giri il team degli orsetti volanti riesce a portarsi al comando guidando per un po' il gruppo dietro a sé. Da segnalare che i primi 5 equipaggi nella prima mezz'ora di corsa erano distanziati da solo un secondo di gap. Che spettacolo! Stiamo rimontando, siamo già sesti dopo due ore e mezzo di gara, sarà dura ma ce la mettiamo tutta come sempre. Dopo due ore siete là davanti a tutti. Sì, abbiamo fatto un piccolo sbaglio all'inizio però adesso siamo in gran recupero quindi spariamo bene dai. E guardate, là dietro c'è la macchinetta del caffè, computer dei tempi, organizzazione al massimo con le radioline e il team MGM sicuramente si sta divertendo in questa 500 miglia. Ci stiamo divertendo ma ci stiamo anche ammazzando perché siamo retrocesso parecchio per una nostra disattenzione. Di dove siete ragazzi? Di Roma, tranne uno che è un romano acquisito perché è di Milano. Eccoci qua, vedete il bello della diretta, mentre il team di RGM sta effettuando il suo cambio pilota, noi vogliamo dedicare questo spazio a Jessica perché è una delle pochissime ragazze che tutte le gare, e ne fanno tante il team di RGM, è sempre 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 presente. Sì, praticamente sì, sempre presente. Allora, oltre a supportare il tuo fidanzato, sei sempre a disposizione della squadra con tempi, guardi le strategie, proprio una grande passione. Sì, certo, se posso aiutarli, sempre. Dopo le prime tre ore, verso le 23.30, la classifica è nuovamente cambiata. Ora è il team di RGM a condurre la gara seguito dal SKT e dagli orsetti volanti. A seguire troviamo CKA Racing, Tarsi Corse, ST Racing, Red Racing, VKI, Vicenza Kart Indoor, Pomposa Dream Team, Pomposa All Star. Da segnalare che il team di RGM partiva solamente dalla nona piazza. Scusa, tocca a te. Ciao. Ride, ve lo vale che ride. Allora, ci si riposa anche un po'? Eh, ci vuole un po' di riposo, è importante. Buonanotte. Grazie, ragazzi. Abbiamo avuto una discreta qualifica undicesimi, siamo partiti, siamo arrivati con il solo primo turno alla prima posizione, poi abbiamo avuto un problema, diciamo, di comprensione e siamo finiti a fare 45 secondi di pit stop. Vignus, che adesso ci spiegherà cos'è. Vignus è, diciamo, una storpiatura del mio cognome, Vignocchi Vignus. Il nome di battaglia, se battaglia si può dire. Alla Siodono, sbirciata, avventura, siete... Ultimi. No, dai, terzultimi, perché test, test, lo contiamo. Sì, no, i test, addio. Siamo ultimi, no, bisogna mettere le cose come stanno. Però il divertimento? Abbiamo, il divertimento è massimo. Il divertimento è massimo, no, siamo qui per divertirci noi, fondamentalmente. Cioè, ci sono squadre troppo forti. Il margine tra i vari kart non era molto, per cui è un bel girare. Eravamo partiti bene, nei primi 4-5 posti, poi purtroppo coda al distributore, neanche fosse giornate pre-shop, però abbiamo perso due giri. Però ci crediamo ancora e vediamo di arrivare su. A Meleniano il casello era libero? Il casello sì, avevamo il telepass, pubblicità occulta ed è andata bene. Fabio, ti stanno facendo benzina? Eh, pare di sì, spero che sia benzina e non acqua. O GPL, no. Come sei messo? Vai, in piedi. Ecco, buona continuazione. I bollini, ragazzi, i bollini. Non gli hai dato i bollini? Dopo sei ore, alle ore 2.30 del mattino, la classifica muta nuovamente. In prima posizione, infatti, si trova il team SKT, seguito dall'ST Racing e dal IRGN. A seguire, gli orsetti volanti. Poi, VKI Vicenza Kart Indoor, che partiva ultimo. Persi corse, CKA Racing, Pomposa Dream Team, Red Racing ed Emilia Racing Recotec. Ragazzi, qui a Pomposa sono le tre e mezza del mattino. Tutti i nostri piloti si stanno divertendo, ma c'è anche chi, come Sergio Perrone e tutto lo staff della Far Race, lavorano al centro assistenza per dare il massimo ai propri mezzi. Sì, siamo qui e andiamo avanti fino alla fine della manifestazione. I mezzi, come abbiamo visto anche nel primo stint di manifestazione, sono tutti quanti uniformi. Siamo tutti, bene o male, qua raggruppati nei 6-7 decimi tutti quanti i go-kart, quindi siamo molto, molto contenti e soddisfatti di questo. La mia manzione è controllare che quando i kart entrano, vedi, si mettono sulla bilancia, si controlla che il peso sia inere, cioè coerente. Vai, vai, vai pure, vai, scusa. Oltre i 238 kg e poi se il peso è buono, se ne vanno. Dopo nove ore, ossia alle 5.30, gli orsetti volanti ritornano in prima posizione, seguiti dal SKT Racing e dal VRGM. Seguono i team ST Racing, VKI Vicenza Kart Indoor, Emilia Racing Recotec, Persi Corse, Pomposa Dream Team, CKA Racing e Red Racing. Vediamo ora, amici di Go-Kart TV, alcuni momenti salienti e decisivi della corsa. Dopo 12 ore, ossia alle ore 8.30 del mattino, la classifica cambia nuovamente col team SKT che si riporta al comando, seguito dal DRGM e dagli orsetti volanti. A seguire troviamo ST Racing, VKI Vicenza Kart Indoor, Persi Corse, Emilia Racing Recotec, Pomposa Dream Team, CKA Racing e Red Racing. E' stata dura perché chiaramente tutti giravano fortissimo e quindi cambi al limite, qualche penalità e siamo scivolati un po' indietro. Tu stavolta eri quello dei bollini? Sì, sì. Devo ancora passare a pagare la benzina, però. Siete sempre nelle posizioni che contano? Scusa ma mi parlo, non ho riuscito. Niente, sordo, abbiamo il pilota sordo, ciao! Lei oggi è l'unica rappresentanza femminile in pista, come stanno andando le cose? Eh, insomma, potevano andare meglio, oggi non siamo riusciti a dare il massimo, però, vabbè, capita purtroppo. Però vi state divertendo, ho visto? Sì, quello sempre, lo facciamo proprio per divertirci. Cosa vuoi dire a tutti gli altri team in romano, mo? Eh, no, non si dice! Ci vostri, no! Ci stiamo giocando il sesto posto, abbiamo fatto un rimontone da ultimi, abbiamo avuto un po' di problemi a inizio gara, e quindi adesso abbiamo le uova pronte per mandare fuori pista il nostro avversario, però speriamo di non doverle usare, dai! Grande Daniele Ghinazzi, fotografo ufficiale della 500.000 Grazie mille, ciao! Ed infine, alle ore 11 di domenica 28 settembre, dopo circa 15 ore di gara e 664 giri di pista percorsi, si conclude l'edizione 2014 della 500 miglia. A vincere la gara è il team degli esperti orsetti volanti con 664 giri percorsi. Sul secondo gradino del podio si piazza il team SKT Racing con 664 giri all'attivo ed un distacco di soli 43 secondi. In terza posizione troviamo il DRGM, con anche loro 664 giri effettuati ed un distacco di 51 secondi dai primi. Ragazzi, un grande arrivo in volata! La classifica ufficiale della 500 miglia di Pomposa vede il team ST Racing seguire in quarta posizione, poi VKI Vicenza Kartin Doro in quinta, sesta piazza per Persi Corse. A seguire, Emilia Racing, Recotec, Pomposa Dream Team, CK Racing, Red Racing, Pomposa All Star, T-Kart, Stemar Racing, Kartisti per caso, Kart Track, MGM Kart Racing, Ventura Airtrack. Questa gara per noi è l'ultima gara, ci ha un po' mal in cuore, però abbiamo deciso l'unanimità di fermarci. È già dieci anni che partecipiamo a queste gare, negli ultimi anni abbiamo ottenuto sempre buoni risultati. Siamo venuti qui con la speranza sinceramente di vincere, però stamattina onestamente quando abbiamo visto, ieri sera quando abbiamo cominciato a correre, abbiamo visto che c'erano dei team fortissimi e tutto sommato pensavamo che fosse più difficile vincere. Sono stati soprattutto le prime tre squadre, arrivare alla fine con margini di 30 secondi è una cosa che in 15 ore capita raramente, di solito si arriva con distacchi molto più ampi. Siamo rimasti per un bel pezzo in prima posizione fino all'ultimo in cui per un cambio, fatto alla perfezione da parte degli orsetti volanti, ci hanno superato dei 30 secondi. La nostra preoccupazione era anche dietro per il grande team di RGM che nelle ultime gare fatte nella Soddy World Series ha fatto gare spettacolari e per noi è stato veramente, sono nostri amici, ci teniamo a precisarlo. E' stato un piacere correre con voi, veramente. Abbiamo sentito del ritiro del team orsetti volanti, contrariamente a quanto potete pensare io sono contento che si ritirino, perché sono molto contento perché quando compitiamo con loro è praticamente quasi impossibile vincere, quindi almeno avremo qualche possibilità in più. Li abbiamo battuti alla 24 ore ma è stata l'unica volta. Da segnalare la splendida riuscita dell'evento e l'ottima affidabilità dei mezzi che ha consentito agli equipaggi di sostenere la gara senza alcuna rottura. In riferimento a questo si è potuto realizzare un piccolo record durante tutta la manifestazione, ossia dalle prove libere allo sventolamento della bandiera a scacchi non è mai entrata la safety car. Questo a dimostrare l'efficienza dell'assistenza tecnica dell'evento. Relativamente a questo si ringrazia la pomposa Endurance Series nelle persone della famiglia Bondi e tutto lo staff della Far Race per la grande affidabilità dei propri mezzi e per l'assistenza tecnica durante la gara. Ed infine si ringraziano tutti i piloti che hanno partecipato a questa prestigiosa e meravigliosa 500 miglia. Ricordiamo a tutti gli appassionati che il 29 e 30 novembre si correrà la 24 ore di Gran Canaria, mentre il prossimo appuntamento per la pomposa Endurance Series sarà a maggio 2015 per la 500 miglia. Per avere tutte le informazioni www.pomposaendurance.it Mi raccomando cartisti guardate il sito e formate anche voi il vostro equipaggio, sarete protagonisti.